In Italia siamo al 14esimo posto nella classifica dell'insediamento delle donne nel mondo del lavoro, quindi abbiamo ancora tantissima strada da fare. Abbiamo la Grecia subito sopra di noi, quindi significa che insomma come paese altamente industrializzato l'Italia ha un percorso ancora importante da mettere a punto, però ci sono dei dati positivi. Per esempio l'inserimento della legge Golfo-Mosca, che oramai abbiamo in Italia da oltre dieci anni, ci ha consentito di raggiungere dal 5% di quando è stata inserita la legge, adesso ad 11 anni dopo, raggiungere il 36% di donne in ruoli apicali nei CDA della pubblica amministrazione o delle società quotate in borsa. Quindi questo cosa significa? Che purtroppo quello che il cambiamento culturale fa fatica a smuovere in maniera naturale, a volte quando interviene il legislatore l'accelerazione avviene. Inserire giovani, inserire donne all'interno di un'azienda appare una via intelligente per affrontare tutti i cambiamenti che questa società sta portando con sé. I sociologi parlano di questa società come una società vuca, volatile, incerta, complessa, caotica, ambigua. Insomma tantissimi elementi che ci fanno capire che quello che ci ha portato qui certamente non ci porterà a superare problematiche. Quindi inserire energie, modi di vedere, modi di fare, alternativi a una predominanza maschile sia veramente un passo importante da fare. Ciò che è da portare in azienda sono nuove modalità per esempio di affrontare il conflitto, di affrontare le relazioni, di affrontare lo stress e tutti quanti gli ostacoli che un mercato così complesso sta portando. Insomma quello che serve è sicuramente una competenza hard tecnica e anche sicuramente una competenza attitudinale e relazionale.